Ragazzi, in programma per oggi c'era un SG, però Action ha smesso di funzionare come si deve. In che senso? Praticamente vi avevo detto nello scorso video quello di Super Smash Mobs che faceva tipo interferenze e il video andava veramente di merda, scusate la parola, ma veramente. Io ho provato di tutto, ho provato OBS, ho provato Fraps, che però mi fanno una qualità di merda, ho provato Camtasia, però fa laggare veramente un sacco, e perciò vi carico questo video qui, vi faccio vedere un po' le cose che faccio con Photoshop, e niente, io non so cosa fare, penso che il problema di Action sia dato dal problema del PC, perché non è l'audio come dicevano alcuni di voi, ma era semplicemente sia audio che video, perché ora con Udacity appunto, io se registro l'audio con Udacity, il video va bene, insomma. Io non so cosa fare, vi carico questo video qui e questo intro qui, giusto per dirvi che ho veramente tanti problemi, sia fuori di YouTube, che è per questo che non avete avuto video, né domenica né lunedì, insomma. Niente, io non voglio smettere di fare video, ovviamente sto cercando tutti i modi possibili e immaginabili per portarvi dei video. Per fortuna avevo queste cose qui da farvi vedere, appunto, le mie creazioni, così si possono chiamare di Photoshop. Spero vi possa piacere il video e niente, io voglio solamente che non smettiate di seguirmi, perché se smettete di seguirmi veramente è un casino. Perciò spero che queste cose di Photoshop vi piacciono e io voglio chiedervi tutto il supporto, anche quelli che non mettono mai like, per favore, per questo video lasciate like, è veramente importante, vi prego fatelo. Datene tutto, buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.